ciao sono teresa la viaggiatrice alle matte alla fine dell'estate mi hanno chiamato gli amici di le matte mi hanno chiesto se avevo voglia di fare un viaggio un po speciale in sicilia mi hanno raccontato di franca antonino gucciardi che in una piccola masseria contadina offrono ospitalità ai viaggiatori che vogliono scoprire la sicilia rurale e i paesi della valle del belice e mi hanno proposto di partecipare alla raccolta delle olive a menfi da un po di anni compro l'olio della famiglia ciaccio e l'idea di vedere dove come quell'olio viene prodotto mi piace molto e così ho chiesto ad un po di amici tedeschi se volevano accompagnarmi per una settimana alla scoperta di questi luoghi speciali e queste persone speciali le matte sono venuti a prenderci all'aeroporto di palermo e poco dopo meno di un'ora di viaggio di notte siamo arrivati in un luogo davvero particolare non era un albergo ma nemmeno un bnb o un agriturismo siamo in mezzo alla campagna dietro una porta illuminata ci aspettano franca antonino con una cena straordinaria al mattino mi sono subito resa conto che mi trovo in un sito unico una vecchia masseria che il proprietario antonino ha voluto ristrutturare e recuperare immersa nel verde di un'azienda agricola mi affaccio al balcone della mia stanza e vedo un panorama verdissimo che si apre su degli ampi giardini di profumate piante di agrumi sullo sfondo si scorgono vigneti a perdita d'occhio quella qualche macchia di colore delle rigoriose buganville di sorto ci attende una colazione ricchissima le torte fatte da franca e le marmellate prodotte da antonino adesso inizia la mia visita ai luoghi vicini guardo la cartina storica mi accorgo che mi trovo nel cuore della sicilia storica e perfino degli insediamenti preistorici siamo nella terra degli elimi che costruirono l'imponente tempio di seggesta usciamo di casa e troviamo dopo pochi chilometri e una campagna stupenda gibellina un esempio sorprendente di pianificazione moderna perfettamente riuscito emozionante il cretto di burri a gibellina vecchia una colata di cemento su ruderi del sisma del 68 il giorno dopo sveglia presto oggi si va a raccogliere le olive a menfi vito ciaccio ha sempre lavorato la terra con tanta cura da qualche anno la famiglia ciaccio ha deciso di provare a trovare clienti che apprezzino la qualità dell'olio e comprendano anche la fatica di coltivare le olive e trasformarle e così sono nati i gruppi di acquisto un po' qua e là anche all'estero io vi offro delle mandorlina anche io compro l'olio dalla famiglia ciaccio da qualche anno e ora posso partecipare alla raccolta una giornata bellissima dopo la raccolta siamo andati a frantoio per la molitura che è così limpido che sgorgava fuori dal torchio abbiamo voluto assaggiare a farlo con bruschetta e a condire alla ricotta prima di cena incontriamo Franco e il suo museo non museo ci si può stare per ore e scoprire tanti dettagli interessanti il giorno dopo ci svegliamo e piove così andiamo tra Montevago e Sala Paruta presso un centro termale con diverse sorgenti e vasche naturali andiamo a Marsala spettacolare soprattutto lo scenario naturale delle saline lo stagnone dove abbiamo assistito a uno straordinario tramonto sul mare e poi il centro storico di Salemi che ho avuto la fortuna di percorrere e gustare grazie anche alla guida appassionata di Lorenzo il genero di Nino il castello Normanno Svevo il vasto complesso museale il museo archeologico e quindi il tanto declamato museo della mafia sicuramente molto suggestivo incantevole sempre a Salemi il museo dei pani votivi dedicati a San Giuseppe poi sulla destra troviamo l'angolo naturale che significa la potenza quindi lo stelle �arale lo stelle morando Ma la cosa più straordinaria è stata la vita alle case Zaccanelli. Questo piccolo borgo, la masseria, la casa appunto, si rivitalizza quando vengono tutti i figli e i nipoti e pronipoti del nonno Andrea, che ha creato il borgo per produrre vino e per far vivere la grande famiglia. La morte è un vino di annata, è un erodavola misto a Syrah, un 50-50%, è stato travasato da poco, quindi ancora non è limpido, però già dal colore si vede come arriverà ad essere un buon vino di annata sicuramente. Ognuno cura un pezzo, ma tutti si ritrovano assieme e anche noi viaggiatori abbiamo il nostro ruolo. Franca ci insegna a fare il couscous, ci prepara i fruttini di marzapane, la frutta martorana, si possono già cogliere le primizie delle arance. Quando guardo la gente che vive nel borgo, posso immaginare gli spettacoli culturali e teatrali che nell'estate si organizzano in questa masseria. Di sera si sta tutti insieme, si canta, si chiacchiera, ci si scambiano idee, storie ed esperienze. Grazie Le Matt, grazie a Franca Antonino, Saverio e a tutta la sua famiglia. Qui tornerò senz'altro, perché per la Sicilia una vacanza breve proprio non basta. Qui bisogna fermarsi un po' e imparare. Renato, lo vedi? Renato, lo vedi? Renato, lo vedi? Renato, lo vedi? Deve dire Teresa. Solo questa. Teresa lo vedi? Teresa, lo vedi? Ancora? Teresa, lo vedi? Come il discorso. Poi lui magari lo pulisce.